Il mondo richiede un supereroe, non uno dei cartoni, ma di qualcuno pronto a essere più del normale, a essere eccezionale. Devi dedicarti con fatica e volontà, devi essere attento quando gli altri riposano, devi sfidare quando gli altri passeggiano su e giù. Osserva intorno. Sono le tre del mattino e non c'è nessuno, ma tu sei qui e questo è il primo passo verso il trionfo. Non si progredisce stando sdraiati sul sofà, stai bene venendo qui e alzandoti giorno dopo giorno. Prosegui ad avanzare come uomo, il nostro solo dovere è continuare ad avanzare nella nostra missione. Ogni uomo ha bisogno di un fine, di una missione e di una squadra. Quindi non dimenticare mai il tuo fine, la tua missione e la tua squadra. Ricorda che la vita ci arriva in stagioni vittoriose e stagioni sconfitte, potresti essere in una stagione sconfitta. Renditi conto di andare avanti, accelerare la stagione e quella vittoriosa arriverà di sicuro. Devi essere disposto a scoprire quanto puoi svuotarti per attingere al tuo serbatoio nascosto. Non arrenderti mai, continua a combattere per i tuoi sogni e vedrai che alla fine tutto il tuo faticoso lavoro sarà ricompensato. Guarda, è facile diventare un malvagio. Malvagi ed eroi entrambi subiscono lo stesso trauma, allo stesso dramma, ma la loro risposta è diversa. E quello che fanno nei giorni seguenti al trauma stabilisce se saranno vittime o sopravvissuti, malvagi o supereroi. Questa è una scelta che tu fai. Sarai super ogni giorno che deciderai di esserlo. Informazione Non ascoltarla dai falliti Ci sono un sacco di falliti qui fuori, persone che hanno abbandonato i propri sogni, persone che non si vogliono bene solo perché non lo fanno. Non permettere che investano le loro energie sulle tue insicurezze, sui tuoi timori. Hai una possibilità qui fuori, possiedi la tua vita e realizzala. Guardo ora al mondo e anche al passato. Ciò che vedo è semplicemente questo. C'è la tendenza che molte cose vengono esternalizzate a tutti gli altri, alle istituzioni, ad altre persone che stanno al di fuori di te. O cerchiamo qualcuno che possa darci qualcosa, oppure se qualcosa va male cerchiamo qualcuno a cui dare la colpa. Quindi non importa in quale direzione andiamo. Il punto è che non dici mai, stavo facendo un errore, è colpa mia. Ma piuttosto preferisci gettare fango sugli altri. Sembra che tu abbia avuto una pessima giornata, i tuoi colleghi sono cattivi. La giornata è pessima, il traffico e il tuo lavoro è pessimo. No, nulla di tutto ciò è negativo. È il tuo modo di vedere che è negativo. Vedi, il problema è che spesso categorizziamo in compartimenti. Riduciamo a una definizione così limitata di chi possiamo essere. E cosa possiamo fare per avere un impatto su questo mondo, per cambiare altre esistenze. Essere solo un insegnante, un ingegnere. Ma sei molto più di questo, sei un motivatore, un inventore, un curatore. Non confinarti a queste etichette, sei molto più di questo, sei molto più di questo. Respira, respira profondamente, e riconosci il tuo potenziale. Quando ti rendi conto di quanto sei versatile e di quante dimensioni puoi attraversare, capisci che hai giocato il piccolo per tutto questo tempo. Il potenziale può essere realizzato o sprecato, quindi liberati di ciò che non serve e sfrutta il resto. Affronta ciò che ti sta di fronte, perché una volta affrontato perde il suo potere di intimorirti. Il mostro sotto il letto non può gestire il mostro che diventi sopra il letto. Michael Jordan, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, ha sbagliato 9000 tiri. Ma questo non lo rende un fallimento. Tutti falliamo, ciò che conta è che quando fallisci non rimani giù, perché i vincitori falliranno e si rialzeranno. Molte persone si interrogano sulla propria identità. Se ti stai chiedendo chi sei, considera ciò che ami. Quando ti avvicini a ciò che ami, l'amore che provi si intensifica. Esprimi al meglio ogni talento che ti è stato dato. Rendi onore a chi ti ha creato. L'amore che provi per gli altri può esistere solo se conosci veramente l'amore. Se non lo provi, lo stesso vale per la gratitudine. Quindi tutto parte da te. Respira profondamente e continua a cercare l'eccellenza in tutto ciò che fai. Ascolta te stesso, qualunque cosa tu voglia portare in questo mondo. Sì il rappresentante di ciò che pensi. Poniti queste domande. Perché non dovrei farlo? Perché non dovrei correre il rischio? Ad un certo punto devi rischiare. Fermati un attimo. Potresti sentirti come se avessi lasciato passare così tante opportunità. La cosa più emozionante è che c'è un intero mondo di opportunità davanti a te adesso. Guarda tutte le porte che si sono appena aperte davanti. Solo perché hai corso un piccolo rischio. Tutta quella preparazione ha portato a questo momento e tu ne hai sfruttato. Ricorda, questa è la storia dell'eroe. Questa è la storia di questo eroe. Tu sei quell'eroe. Sei tu quello che entra sotto i riflettori. Quello che affronta le sfide più dure. Quello che può combattere più battaglie insieme. Ma deve essere una tua scelta. Nessuno può obbligarti a fare questo. Adesso pensa in grande. E la responsabilità che ti prendi sarà grande. Maggiore è il senso della tua vita. E maggiori saranno le ricompense che riceverai. Quindi più piena sarà la tua esistenza. Ma non è proprio così per le persone intorno. Cerchi di risolvere problemi ardui e di aiutare la sofferenza. È come se non bastasse. La vita si diverte a prenderti in giro. Ti ride davanti senza alcuno scrupolo. Anche della gloria. Alla fine di tutto. C'è vera gloria. C'è un significato profondo. Alzati. Fai qualcosa di difficile. A volte non capiamo la vita. Cos'è questa cosa? Qual è il mio scopo? Perché sono qui? Beh. Devo affrontare questo dolore. Devo affrontare questa sensazione. Perché non può essere sempre tutto calmo. Se fosse così, non si sarebbe vita. Sai che quando si tratta di vita, devi prenderla con i tuoi termini. La vita secondo i termini della vita. I nostri termini vanno a farsi benedire. Accetta le condizioni e trai vantaggio da esse. Quando arriva la sofferenza, tu scappi. Oppure arriva la sofferenza, arriva il dolore e tu lo affronti. Stiamo superando la sofferenza? Non stiamo scappando. La stai superando. Spero che troverai il resto. Va bene, riposa. Con la consapevolezza che stai riprendendo fiato. Così puoi tornare indietro e continuare il tuo viaggio. Così puoi continuare a fare quello che stavi dicendo. Che sia mentale, emotivo o fisico. Non logorarti al punto da non essere utile a nessuno. Compreso te stesso. Ricorda. Nessuno può costringerti. Nessuno può obbligarti ad essere grande. Devi scegliere di farlo, perché allora la tua anima emerge. E spero con tutto il cuore. Spero che il giorno in cui deciderai di emergere, altri saranno lì a testimoniare che sei tu. Non sto parlando con il tuo vicino. Sto parlando con la persona accanto a te. Sto parlando a voi. A te. Non sto parlando con la persona accanto a te. Grazie a tutti.